CASTELLO FIABESCO Ciao! Io mi chiamo Sidney e oggi con Barbie sono all'aperto ma il sole è così forte che abbiamo bisogno dell'ombrillone Che cos'è? Che cosa sta succedendo Barbie? Andiamoci a nascondere nel castello Aiuto! Aiuto! E' questo il modo di chiedere aiuto? Aiuto! Aiuto! Hai visto Barbie? Era Piki! Significa che stanno venendo ad aiutarci La mia borsa! La borsa di Ladybug! La mia borsa è una borsa! Ti prendo io! Oh, chamois! Sei arrivato giusto in tempo! Ladybug! Ti salvo io! Nuvola di palline! Via di qua! La sconfigo io quella nuvola di palline! Grazie ragazzi! Grazie ragazzi! Che cosa avremmo fatto senza di voi? Sidney, sono sempre a tua disposizione! Sidney, ho perso la mia borsetta! Non l'avete vista per caso? Certo! L'abbiamo trovata! Eccola! Tiki! Ti ho trovato! Grazie! Grazie Sidney! Mi hai salvato! Oh, chamois! Sei il mio eroe! Ehm, certo, certo! Barbie, comportati bene! Grazie amici! E a te piacciono le avventure di Ladybug e Chat Noir? Scrivicelo nei commenti! Ciao! Sì, sì! Scriveteci! Aspettiamo!